Adesso mi faccio il tabasco, ho messo il pecconeggio sul fuoco e fra poco aggiungiamo gli altri ingredienti. Ecco qua, abbiamo aggiunto un bicchiere di aceto e un mezzo litro di salsa e mezzo litro di acqua. Adesso facciamo bollire. Ecco qua, abbiamo fatto uno, due, tre, quattro, cinque e sei barattolini di tabasco, questo mi basta sicuramente per tre mesi. Bene, ci sentiamo la prossima volta quando faccio i prossimi. Ciao, buona serata. Ecco, li abbiamo anche etichettati. Adesso li possiamo portare nella dispensa.